CASTELLO FIABESCO Accendo un po' di musica Mi serve il gringliule Ciao Steffi, che fai? Ciao Sidney, sto preparando una pizza per Ken Wow, ti aiuto a fare l'impasto Portami gli ingredienti Certo In frigo ho di marshmallow, della cioccolata, delle banane e dei pomodori Non sono pomodori, sono fragole E come vedi ho solo cose dolci Vabbè ho capito, ma non hai qualcosa di salato, tipo del formaggio? Vado a vedere E sì Sidney, formaggio non ce n'è E del salame Salame? Adesso lo cerco Qui non c'è Cerchiamo qui No, non c'è E Sidney, nemmeno il salame c'è E non ho capito, e con che cosa la volevi fare questa pizza? Mmm, fammi dare un'occhiata nel tuo frigorifero Marshmallow, cioccolata, banane, fragole Con questi possiamo solo fare una pizza dessert Con cioccolata, marshmallow, banane e fragole Esiste una pizza così? Beh, quando hai solo queste cose in frigo Toh, va a tagliare la cioccolata Subito La pizza deve essere rotonda Perciò faccio la forma con un piatto Steffi, guarda che bella pizza è venuta Wow, che brava Sulla base della pizza voglio spalmare un po' di burro di arachidi Tagliamo le fragole Steffi, tutto a posto? Sì, sì, ho quasi fatto Ci serve una sola banana Il cioccolato grattugiato è pronto Grazie Benissimo, spargiamo il cioccolato sulla pizza Non dimenticarti di marshmallow Sei bellissima ed è ora di metterti in forno Mmm, non è pollo E non è una torta È una pizza Brava Steffi Mentre tu apparecchi la tavola Io preparo il tè Allora Sidney, è pronta la pizza? Sì, è pronta Che dici Steffi? La proviamo la pizza prima che arrivi Ken? Sì, certo Per te Steffi Oh, Sidney È proprio deliziosa La devi provare assolutamente Mmm, sì, la provo subito Mmm, è un po' strana ma è buona È proprio buonissima, ne mangerei un pezzo dopo l'altro Mmm, 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 mmm Oh, il tè è pronto Ciao ragazze Che buon profumo Ciao Ken Abbiamo preparato una bellissima Pizza per te Eh, scusami Non l'ho fatto opposta La pizza era così buona Che non ho saputo resistere Ken, accomodati Però almeno un pezzettino te l'ho lasciato. Mmm, beh, voglio provare allora. Mmm, che dessert particolare. La pizza, Stefi, è piaciuta tantissimo. Anche se devo dire che per me la combinazione di ingredienti era un po' strana. E tu, prepari la pizza con ingredienti inusuali? Ciao! Ciao, ciao!